ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo episodio del podcast oggi episodio un po' particolare perché abbiamo un ospite altrettanto particolare che si presenterà da solo che sta già ridendo quindi non mi dilungo oltre vi ricordo di iscrivervi al canale di seguirci ma sei diventato Luca Casadei perfetto ragazzi andiamo via all'episodio basta dai ho capito ma particolare perché esattamente perché sei tu particolare ma è un complimento certo perché tipo speciale come quando dici bambini speciali e infatti non l'avevo presa molto come un complimento oggi con chi siamo presentati un po' gli ospiti anche se forse non hai bisogno di presentazioni e niente mi chiamo Roberta Zacchero voi mi conoscete già abbastanza bene gli altri pure abbastanza e nulla andiamo all'uni tutti insieme felici e contenti wow che presentazione che presentazione perfetto sì vabbè per chi non lo sapesse Roberta è quello che oggi viene definito un influencer un creator content creator io preferisco ok ok poi in realtà viene sottovalutato comunque come lavoro è giudicato malissimo quindi hai già ricevuto immagino critiche della serie questo non è un lavoro vatti a trovare un lavoro è a voglia ma più che altro su sui social perché quando lo dico cioè io tendenzialmente non mi presento dicendo ciao lavoro con i social o sono un influencer non lo faccio quando esce se esce l'argomento lavoro difficilmente mi hanno insultata ho detto qualcosa magari si sono tenuti per sé il loro giudizio ma solo sui social mi capita di ricevere commenti ma vai a lavorare ma cioè quindi è una cosa che si limita a tutto l'universo non fisico cioè non c'è mai arrivato qualcuno che ti ha detto vai a lavorare nella vita reale no meno male no anzi rimangono magari affascinati ci sta io non amo parlare del mio lavoro in questa sede lo faccio però con le persone normalmente non lo faccio per il semplice motivo che sia una cosa affascinante però appunto è un lavoro è come se uscita da lavoro io parlassi otto ore di quello che ho fatto come cassiera in un supermercato alla gente non penso che importerebbe tanto poi è vero ha delle cose fighe perché fai sempre esperienze nuove però è comunque lavoro per me allora volevo contestualizzare un attimo perché effettivamente tu hai un passato diciamo di una certa notorietà perché il programma del collegio ti ha dato sì una certa notorietà però tra data a 16 anni quindi una cosa che volevo chiederti è come te la sei vissuta tu tutta quella diciamo botta di notorietà a quell'età così giovane allora uscire da un programma televisivo e sia una cosa bella perché ti dà una notorietà molto più facile perché comunque la tv la guarda tantissima gente ma è anche una roba molto improvvisa dunque il tuo pubblico è meno fidelizzato perché il cioè tu non stai crescendo piano piano e la gente non ti sta seguendo effettivamente perché gli piace il tuo personaggio ma perché in quel momento tutti parlano di te e quindi la gente vuole rimanere aggiornata vuole 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 farsi i fatti suoi i fatti tuoi semplicemente per rimanere aggiornata e poter avere un'opinione quando si parla nella discussione di te personaggio e a 16 anni uscire il giorno prima per andare a scuola normalmente il giorno dopo avere mezzo milione di persone che ti seguono e quindi magari lo stesso percorso lo fai nel doppio del tempo se non nel il triplo ti crea un attimo di disagio poi io penso di essere maturata molto prima dei 16 anni cioè per me non è stato avere 18 anni sentirmi l'adulto così ma ho avuto questo processo un po prima quindi in realtà non ho patito tantissimo ma c'è gente che dal mio collegio è uscita a 14 anni e 14 anni avere una responsabilità del genere secondo me è impensabile cioè io a 14 anni proprio la persona meno raccomandabile e responsabile del mondo quindi è stato un po impattante e poi la cosa che più di tutto è cambiato è che ho iniziato a soffrire di ansia sociale tantissimo quindi non si va più nei affollati non si va più sempre in discoteca sempre nei posti con tanta gente o comunque tanta gente nel target che ti conosce certo perché ovviamente se mi sequissero gli adulti andassi in discoteca non cambierebbe però un target di ragazzi sempre più piccoli perché le repliche le stanno ancora mandando in onda quindi un target sempre più piccolo e dunque diventa un attimo pesante quando si sta nei luoghi affollati anche perché banalmente mi riconosce una persona mi metto a fare la foto con quella persona le altre dieci attorno notano il fatto che io sto facendo una foto quindi magari mi conoscono se ne accorgono e diventa una situazione a domino infinita ma per esempio quando sei uscita dal collegio a livello di chiamiamoli manager o figure che cercano poi di accalappiare i nuovi talenti e prenderli sotto la propria ala o azienda è stato così è stato così quindi ti sei ritrovato un insieme di persone che è stato così io tra l'altro era già qualche anno cioè io comunque postavo sui social già da prima ed era quello che volevo fare quindi avevo già iniziato a stare più attenta a quello che postavo a fare le foto magari a livello più professionale con i fotografi così e tra l'altro comunque la visibilità che ha dato a me il collegio è stata molto alta era un personaggio molto amato e ho fatto anche un bel percorso lì dentro quindi appena sono uscite le puntate che ovviamente sono state registrate prima le agenzie si sono fiondate su di me che dal giorno prima non mi conosceva nessuno cioè facevo quello che faccio ma semplicemente venendo criticata dagli altri è arrivata la fashion blogger così perché se non hai pubblico e lo fai sei un cretino se lo fai col pubblico sei un figo sei un famoso allora ok comunque sì è stato così con le agenzie per fortuna cioè per fortuna per legge un minorenne per firmare con un'agenzia ha bisogno dei genitori e i miei genitori mi hanno accompagnato a fare questi colloqui hanno lasciato a me la libera la libera libertà la libertà di scelta quello che ci ha dato dio non sei credente smetti la libertà di scelta ovviamente consigliandomi poi anche lì avvocato facciamo vedere il contratto vediamo le clausole quindi comunque ho iniziato a entrare nel mondo un po finanziario presso perché ho iniziato a lavorare che avevo 16 anni entrando in agenzia e quindi queste palle burrocratiche sono entrate presto nella mia vita e invece adesso come la vivi diciamo post collegio poi sei cresciuta ovviamente a livello di agenzia il discorso della fama quindi il discorso di avere persone che ti seguono quindi la gestione dell'ansia sociale come allora sicuramente nella mia vita ha aiutato tantissimo quello che mi è successo perché mi ha dato un motivo nei momenti bui di non farmi troppo abbattere per il semplice fatto che questa cosa l'ho voluta per tanto tempo lavorare così e quindi in un momento triste dico ho fatto troppo per per perdere tutto e quindi mi tiene tanto legata all'essere felice a fare mille cose a non mollare tutte queste robe qua però secondo me era una persona molto più spontanea e spensierata cioè voi mi conoscete sapete che non sono una troppo seria faccio un po le cazzate dico un po di cazzate così e sicuramente pensare che vado per strada la gente mi conosce vede quello che faccio può farmi una foto può farmi un video è ovvio che mi abbia limitata e io credo che adesso che ho quasi 22 anni ci sia essere un attimo più così per strada però magari a 16 ti sbronzavi e non te ne importava niente per strada mentre io a 16 già dovevo pensare che non potevo farmi trovare in nessuna condizione scomoda nel caso in cui avessi dovuto fare un video saluto parlare con i fan fare delle foto mamma mia che odio sto provando anche a immedesimarmi in quello che dici ed è qualcosa che è fuori di test cioè ripensate a voi sedicenni e provate a pensare che quello che potreste uscire dalla vostra bocca dalle vostre azioni potrebbe essere criticato da un milione di persone finire sui giornali finire sugli articoli a me la cosa che terrorizza sono le foto e i video a sgamo cioè io ovunque sono ho l'ansia che qualcuno mi faccia un video e una foto a sgamo in cui sembra che stia facendo chissà che cosa o il bacio in discoteca non esiste per me il bacio dato così in discoteca perché sennò il giorno dopo sei su web o sei sui giornali ed è un casino una cosa che hai detto e su cui volevo allacciarmi è tutto il discorso delle critiche che arrivano anche se online nonostante non siano fisiche come ti ho chiesto prima ti hanno mai pesato ti pesano tuttora sai esattamente come possono essere gestite allora tante persone parlo per quelli che hanno frequentato la mia edizione è stato il fattore più problematico usciti da lì e infatti l'ottanta novanta per cento delle persone che hanno partecipato con me hanno chiuso i social il giorno dopo perché non reggevano quella situazione lì io di carattere sono sempre stata una persona me ne freghissa fin troppo forse e molto selettiva quindi le pochissime persone a cui voglio bene per me hanno valore in quello che dicono e questa cosa qua a me sui social aiuta e poi da sempre sono cresciuta con la frase haters make me famous e quindi quando arrivano gli haters vuol dire che che stai diventando qualcuno tra l'altro volevo un attimo sviscerare questa faccenda degli haters secondo te cos'è che li attira uno a essere così tanto presenti nel profilo di qualcuno e soprattutto cos'è che alimenta la loro invidia allora innanzitutto come dici sono tanto presenti e sono anche forse i numeri più alti che ti fanno fare perché banalmente se tu vedi un video su tiktok che fa ridere ok cringe è pieno di like commenti visualizzazioni ve lo mandate tra amici e quello è tutto engagement positivo per il tuo profilo perché sono numeri più alti quando tu presenti poi a un cliente gli insights del tuo profilo hai numeri molto più alti quindi quelli fanno sempre comodo io me lo sono sempre chiesta perché sono stata una persona molto criticata poi negli anni si sono un po' stufati secondo me perché tanto hanno visto che io non rispondo mai che al massimo elimino ma solo perché non mi va che gli altri leggano queste cose perché mi seguono anche ragazzini piccoli ma in realtà io li ricevo particolarmente estetici perché ho questo stile un po' tatuaggi capelli cambio faccio e alle persone dà fastidio che io stia bene con me stessa secondo me che io mi piaccia che metta foto magari meno vestita o che pure con un tatuaggio sul collo io mi sento bella mi faccio le foto e secondo me la gente dà fastidio quando loro non riescono ad essere magari anche a livello estetico chi vogliono essere e quindi ripiegano su una persona molto sicura perché effettivamente anche nella vita sono molto sicura e quindi quello traspare dai social e sicuramente penso sia la cosa che li attiri di più nel mio caso prima hai detto una cosa molto interessante riguardante il fatto che qualunque cosa tu dicessi da piccola potessi influenzare in qualche modo la tua immagine questo vale per tutti anche per noi quando parliamo con le persone però avendo un'esposizione mediatica del tuo tipo ovviamente ha una certa risonanza ma la cosa interessante che voglio andare ad analizzare di adesso quindi della Roberta che è cresciuta e che è cambiata è effettivamente ora che hai un certo seguito nel momento in cui ti esponi senti moralmente di avere un peso una responsabilità dentro di te delle cose che stai dicendo oppure te la vivi in maniera molto più tranquilla calcola che abbiamo abbiamo fatto degli incontri con degli psicologi e con degli psichiatri io ho altri influencer che si chiama Progetto Itaca che è un hollus di volontariato eccetera proprio per questo motivo per la responsabilità che ci sentiamo e che abbiamo effettivamente e di solito è un po' sproporzionata questa cosa nel senso che ci sentiamo molto più responsabili rispetto alla responsabilità effettiva che abbiamo ad esempio io ho parlato e mi piace parlare di argomenti un po' pesanti magari mi esprimo a livello politico mi esprimo a livello di diritti mi esprimo a livello di LGBT di tabù e tutte queste cose qua e quindi ricevo parecchio riscontro anche negativo ma ho parlato anche di malattie mentali e quindi con questi incontri ci hanno appunto insegnato sia come parlarne ovvero parlandone in modo soggettivo e non cercando perché non abbiamo i titoli per farlo di insegnare qualcosa e allo stesso tempo ci hanno dato un po' di skills di cose da non dire cose da non fare ma che io comunque metto già in atto cioè se parlo di disturbi alimentari io il peso non ce lo ficco mai perché una persona che non ne sa nulla pensa che sia un problema legato al peso punto quindi se io dicessi online quando stavo male pesavo questo magari la ragazzina con 10 anni in meno e 20 centimetri di altezza in meno dice ok allora sto male allora ho questo problema anch'io quindi abbiamo proprio fatto degli incontri durante l'anno scorso e riprendono poi quest'anno proprio perché noi abbiamo bisogno di proteggerci perché anche quando stiamo male lo dici o non lo dici sui social perché sei vulnerabile e quindi ci vuole proprio una preparazione psicologica grossa per fare questo è molto interessante anche questa cosa perché effettivamente se uno ha un certo tipo di immagine magari più sincera quindi che espone al 100% la propria vita magari affronta le cose che hai detto tu adesso come ad esempio la situazione mentale fisico che è magari più apertamente mentre altre persone decidono ovviamente di postare un certo tipo di contenuto piuttosto che un altro quindi magari mantenere la vita privata e sensibile da parte io sono più la seconda parte di persone magari ma non per fingere di stare bene in un momento in cui non sto bene piuttosto mi allontano un po' dai social però cosa fai metti in mano il coltello dalla parte del manico a un milione di persone che possono attaccarti in un momento che tu reagiresti davvero male io tendo a magari allontanarmi e spiegare successivamente lanciando anche un messaggio più positivo sicuramente quando non sono lucida io è difficile che il messaggio che passo sia lucido e quindi cerco sempre di posticipare poi di mio sono molto riservata quindi faccio sempre una scrematura di quello che voglio effettivamente condividere di quando sto male o della mia vita in generale personale quindi possiamo dire che il personaggio esiste cioè la maschera esiste cioè chi vi dice no lei è 100% real quella che vedi è con me nella realtà no assolutamente no la cosa forte è essere spontanei quindi creare dei contenuti vicini al tuo carattere alla tua persona ma ovviamente ti devi filtrare cioè appunto per un discorso di responsabilità per un discorso di quello che tu metti sui social ci sarà per sempre quindi devi essere davvero sicuro quindi non è che la prima cosa che ti passa per la testa davvero tu la puoi dire anche i video più spontanei degli influencer che troviamo se lo sono rivisti almeno 5 volte prima di postarli se non quelli che finiscono nel trash e nei meme perché appunto non hanno avuto quel filtro lì e spesso e volentieri sono i video presi da Twitch dalle dirette perché appunto la gente non ha avuto quel tempo minimo per ripensare a cosa sta facendo infatti tutti i gossip che stanno uscendo adesso magari sono presi da Twitch e poi riportati perché questo filtro che ci stai su cui ci hai riflettuto che ci stai dicendo è una cosa che non tutti quanti effettivamente possono intuire all'inizio e una delle domande che volevamo farti in realtà era su come si diventa un influencer in parte in realtà hai risposto perché l'avere diciamo una presenza non totalmente tua ma con una maschera che in realtà non è che vuol dire che vai a mentire vuol dire solamente che mostri una parte di te vai a filtrare come ha detto lei esatto ti va a aiutare molto su quella che la tua presenza sui social se andiamo un po' più nel tecnico quindi togliamo un attimo la parte un po' più emotiva ci sono effettivamente e quali sono i metodi che hai trovato per se puoi darne solo uno come chiedi sempre tu se puoi dare solo uno il naso no dicevo ci sono metodi di guadagno oppure ci sono dei metodi che ti fanno dire ragazzi visto è un lavoro pago le tasse ci sono delle robe del genere sì vabbè certo allora se tu mi chiedi come diventare un influencer la chiave non ce l'ha nessuno perché sennò oggi nessuno lavorerebbe più saremmo tutti alle Maldive a farci le storie ma non è solo quello ovviamente se tu mi chiedi invece è un lavoro a tutti gli effetti pago le tasse sì io a 18 anni ho dovuto aprire per forza la partita IVA e è tutto tracciato ovvero che siamo costretti a dichiarare il fatto che quello che promuoviamo è perché ci stanno pagando per farlo poi sta ovviamente alla creatività di ognuno di noi influencer di trovare un metodo carino per sponsorizzare il prodotto come in tv quando vedi un palese marchio messo lì apposta capisci se la pubblicità è fatta bene o fatta male dal modo in cui il prodotto viene mostrato e quindi noi dobbiamo essere un attimo creativi e spontanei anche se in realtà ci stanno pagando per promuovere un prodotto quindi devi sempre secondo me la cosa migliore che funziona è trovare qualcosa che ti leghi a quel prodotto veramente da raccontare quindi fai una scrematura anche qui per assurdo cioè su cosa preferisci accostare la tua immagine cosa invece preferisci ah sì allora per me ma in realtà non lo dico io lo dicono tutti quelli che di successo vero ne hanno avuto nella vita sono sempre più importanti i no rispetto ai sì che diciamo assolutamente io pur essendo stata cinque anni sotto agenzia ho sempre avuto la libertà di dire questo lo voglio fare e questo non lo voglio fare ed è difficile quando magari sei piccolo e ti offrono tanti soldi rinunciare a qualcosa però se hai già un minimo le idee chiare di quello che vuoi essere o di chi sei o di chi vuoi diventare ti è più facile e io penso sempre poi sono una persona molto spirituale quindi penso sempre che rifiutando qualcosa mi arriverà qualcosa di meglio tendenzialmente ok ok mi piace vivermi questo pensiero questa convinzione magari che mi racconto però i no che diciamo sono molto più importanti perché chiudono dei capitoli e sicuramente ne aprono altri diversi e nuovi you have to close the door and open the window no 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 sapresti fare una sponsor di orsetti gommosi ma che hanno solamente il gusto di pigna pigna il gusto del bosco sì sì beh sì ho fatto gli scout per otto anni potrei raccontare un sacco di cose sui boschi perfetto quanti anni hai tu ricordalo un secondo quasi 22 come cazzo hai fatto a vivere tutte queste cose in 22 anni ma in realtà in realtà io mi dimentico tantissime cose ad esempio oggi che sono venuta qua io ho detto cavolo ma io ho lavorato a rds next in radio per un sacco di tempo cioè ho fatto anche la radio per un periodo pensavo di voler far radio nella vita poi sì ho fatto dei viaggi fuori dall'italia fighissimi per lavoro ho scritto un libro ecco poi fermiamoci qua a proposito ho conosciuto persone un sacco fighe famose eventi cioè la nostra vita praticamente mi è capitato di tutto e io me lo sono dimenticata vabbè anche noi anche noi anche noi hai conosciuto franchino vero grazie a me grazie a me è vero c'era anch'io c'era anch'io impossibile impossibile prima hai parlato di un libro quindi un libro la bibbia il libro il libro pardon allora se ci puoi raccontare di che cosa parla e soprattutto qual è stato il tuo qual è il tuo feedback del mondo dell'editoria quindi ti sei avvicinato a questo mondo che per te era attualmente sconosciuto e quindi ti sei dovuta anche un attimino destreggiare in quel settore lì racconta un po' sono felice di parlare del mio libro dopo tanti anni grazie link in bio ovviamente non pagato il peso dell'essere ragazzi allora la storia del libro è molto semplice in realtà a me piace tanto tanto scrivere da sempre purtroppo non sono nata a Usignolo quindi di cantare non se ne parla molto e mi viene abbastanza naturale come cosa quando sto di merda scrivo c'è stato un periodo dove sono stata in ospedale un periodo dove sono stata in comunità e uscita dall'ospedale mentre entravo in comunità ho iniziato a scrivere questa storia un po' per sfogo personale un po' per adoravo Wattpad wow che mondo ma scusami questa storia è inventata oppure autobiografica no è un romanzo a tutti gli effetti però ovviamente parla di temi che una ragazzina stava passando perché non poteva inventarseli e quindi ho iniziato a scriverlo a 15 anni dopo che ho avuto il culo di superare questi famosissimi casting del collegio trovo l'agenzia dopo il collegio e loro hanno proposto la storia sia a Rizzoli che a Mondadori poi la scelta di pubblicarlo con Rizzoli è stata della mia agenzia perché semplicemente a livello di guadagno e di contratti c'era chi ti dava i soldi è già la firma del contratto chi ti dava provvigioni eccetera semplicemente per questioni burrocratiche l'ho pubblicato con Rizzoli però quando l'ho presentato alla mia agenzia era già tipo un paio di anni che lo stavo scrivendo e mi hanno detto ah bello però ci manca metà libro e non ti daremo due anni per scriverla due mesi mamma mia il covid no era quel periodo lì il covid ragazzi mi ha dato la possibilità di riuscire tutti i giorni dopo le video lezioni a mettermi e a finire questo maledetto libro però si vede molto che la persona era diversa cioè ero sempre io però l'ho iniziato a 16 e pubblicato un mese prima dei 18 quindi si vede proprio il cambiamento della persona tra l'altro io appunto parlo dell'anoressia dell'autolesionismo in quel libro e la prima parte si ferma all'ingresso in ospedale perché per scrivere la seconda non avevo le palle di farlo perché avrei dovuto un po' rivivere rivivere la cosa esatto certo quindi mi sono armata di tanta forza e coraggio ovviamente volevo pubblicarlo questo libro quindi mi sono messa col diario segreto che scrivevo in quel periodo per ricordarmi le emozioni ricordarmi esattamente alcune cose e trasformarlo poi in una storia che in realtà è servito molto alle persone che stanno vicino alla gente che soffre di disturbi alimentari perché io ho dato un po' di consigli anche indirettamente avendo superato quel periodo se l'avessi scritto appena uscita da quel periodo non sarebbe stato molto utile e forse il fatto che io ci abbia messo così tanto è stato meglio proprio per per dare un messaggio anche più positivo contestualizziamo il momento come ci siamo conosciuti noi ci siamo conosciuti all'università perché ragazzi Roberta fa l'università esatto qua a Torino cosa hai scelto e perché hai scelto quella cosa che hai scelto ovviamente lo sappiamo però dirla contestualizza la scelta contestualizza bene dai allora sono una studentessa di scienze della comunicazione e nulla ho scelto questa facoltà per il semplice fatto che a me piace piaceva sapere anche la teoria di quello che già stavo facendo sui social magari per farlo meglio e magari per farlo per qualcun altro tipo? i Ciclass Podcast mamma mia grazie ma vedi che è veramente il benefattore del podcast ma se tu dovessi fare un appello all'azienda che ci stanno ascoltando quindi un consiglio da dare a noi per farci avere una sponsor di qualche tipo cosa quale sarebbe che cosa diresti? per sponsorizzare voi a qualche azienda? se tu fossi noi quale sarebbe la mossa per farci avere ah questi sono consigli gratuiti che vuoi rubare da me certo basico ne parliamo off camera off camera del tuo percorso universitario ci sono dei corsi che ti sono piaciuti di più che ti hanno dato qualcosa e che ti sono rimasti impressi? allora io non vorrei fare proprio nome e cognome dei professori però c'è stata una materia che ragazzi ho detto boh è il pane per i miei denti qua so tutto e all'esame non solo sapevo perfettamente tutta la teoria ma l'ho anche applicata alla mia esperienza come content creator quindi quello che lei spiegava teoricamente in classe io raccontavo come effettivamente avevo lavorato con un cliente importante facendo questo questa strategy ho preso 20 ho anche capito qual è la materia non posso parlarne male ragazzi devo ancora laurearmi no ma nessuno vuole nessuno vuole assolutamente anzi unito sono i più forti in assoluto ma per quanto riguarda l'università quindi il tuo percorso accademico post percorso accademico che cosa vorresti fare cioè hai già scelto una dato che sei al terzo anno hai già scelto una magistrale oppure pensi che il terzo anno ti possa bastare allora sono ancora un po' in dubbio quello che sicuramente mi piace fare sono dei master infatti come sai anche tu Marco già l'anno scorso ho fatto un master di social media marketing e graphic design fuori dall'università che non c'entrava niente e sono tipo corsi molto intensivi con tantissime ore tantissime video lezioni che però in realtà insegnano un sacco di cose soprattutto magari di skills marketing che mancano così e sicuramente voglio farne altri ma farne altri anche in altre cose a me piace sapere le cose ho un sacco di passioni diverse sono un po' un artista maledetta quindi mi piace sapere tante cose e e secondo me un po' tutto fa brodo perché ti serve un po' tutto per comunicare sui social in base al prodotto che vuoi comunicare e quello che vorrei fare successivamente e lavorare come social media manager per qualcun altro quindi passare dall'altro lato sì cioè cerco comunque di continuare in quello che sto facendo io però in realtà non lo so sono sempre io cioè ho sempre questa faccia vorrei secondo me più stimolante applicare la mia esperienza e quello che sto studiando e vedere se sta bene anche addosso agli altri per capire se effettivamente faccio un buon lavoro l'ho già fatto in precedenza ed è stato un buon lavoro e quindi vorrei farlo con delle aziende beh noi siamo un'azienda questo è un appello non siamo siamo tre amici che non hanno partita noi non guadagniamo niente è vero però effettivamente manca un posto come social media manager qui dentro anche perché lo fa Davide parliamo anche di Baccia vabbè off camera ci picchierà malamente questo in realtà non è stato l'intervista ero per favore ti prego vieni a lavorare qua vieni a lavorare bene in realtà off camera vi ho già dato un sacco di consigli è vero è vero abbiamo fatto una seduta spiritica spiritica è vero per il podcast ma io volevo chiederti una cosa se dovessi dare dei consigli a dei ragazzi che vogliono o che hanno iniziato nel mondo dell'influencer dell'influencer a fare contenuti a postare e appunto a rapportarsi come poi possiamo essere noi ma qualunque altra persona quali sono i consigli imprescindibili prima più o meno ne hai detti un paio su le agenzie su la sanità mentale non uscirne folli dopo che hai così tanta visibilità quali sono i consigli che tu daresti allora io ne ho solo uno ed è considerarlo un lavoro e non la tua vita perché tutte le persone che per me sui social fanno male è perché mischiano queste due cose tu non sei il tuo personaggio essere un influencer non è uno cioè non è la tua intera vita cioè tu ti svegli e dici cazzo sono un influencer non funziona così c'è è come un altro cioè se tu lo inizi a considerare un lavoro gli dedichi il giusto tempo quando esci con i tuoi amici il telefono non te lo caghi quando sai che devi lavorare dedichi quelle ore a lavoro perché se tu inizi cioè è psicologicamente complicato perché non sai mai quando staccare il telefono ed effettivamente il mondo social ti tira un po' a starci sempre attaccato magari a me i lavori arrivavano la sera prima e dovevo postare il giorno dopo dovevo fare subito delle cose dovevo rispondere a delle email fare delle telefonate prendere accordi prendere treni quindi questo ti impiega tanto tempo effettivo ma tu devi considerarlo sempre un lavoro e riuscire a staccare da quella cosa lì e questo io lo faccio come ho detto prima tenendo la mia vita personale riservata appunto ho questa cosa che io quando sono in compagnia non ho la necessità di stare lì a leggere i commenti a vedere le storie degli altri a pensare al tiktok da fare domani cioè non ce l'ho questa cosa proprio perché dico c'è momento è momento e devono essere bilanciate queste due cose anche perché se unisci troppo queste due vai a fare male entrambe le cose a vivere e a lavorare quindi secondo me l'unico consiglio serio e giusto che posso dare è considera questo un lavoro e metti in conto che domani può finire bellissimo consiglio grazie mille scendere la persona dal personaggio Davide hai capito? sì ok g g cos'era sto verso? no è sing il cartone va bene grazie mille Roberto Zanchero che è passata ho fatto anche il cognome grazie a voi grazie cifles off camera ma tra l'altro scusa una cosa abbiamo parlato di fama di gente io volevo raccontare un piccolo aneddoto che veramente mi porto nel cuore tu dici che le persone giustamente ti fermano per fare foto vuoi raccontare un fan fact di cosa c'è successo insieme? no perché non me lo ricordo voglio raccontare un fan fact che è successo a me qualcuno ti ha fermato? sì qualche mese fa un ragazzo con le cuffie in metro mi guardavano e io non capivo dicevo boh sei amico di Roberta Zanchero no mamma mia che maglia di protagonismo guarda che a mia madre succede un botto ma anche a me a me scrivono su Instagram con la mia madre di protagonismo è la realtà dei fan fammi raccontare allora arrivo in metro questo ragazzo mi guarda e si crea quel momento in cui tu non sai se quella persona magari ti conosce e tu fai finta di non guardare o vuole l'accendino o vuole l'accendino vuole rubarti il portafoglio non lo sai esco dalla metropolitana e lui mi tocca la spalla mi giro si toglie le cuffie mi guarda e mi fa ma tu sei il ragazzo che fa il podcast dell'università no vabbè e io ho detto i cicles podcast è famoso sono io sono fiera di voi grazie e lui mi fa ti sto ascoltando adesso e mi ha fatto ascoltare cioè ha alzato le cuffie e mi stava ascoltando e che episodio era? non lo so non glielo ho chiesto merda amico scusa ma cosa stai ascoltando? amico è la base c***o ehi scusa ma cos'è questa figata? vabbè vuoi venire anche tu a fare la voce di D-Max? vieni bene vieni bene ehi amico ma che c***o ti ascolti questo podcast fa schifo al c***o grazie a tutti